Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata, e la morale chiara. E non rigida, quella non è rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? Il sacro del matrimonio, la fedeltà, Gesù è, in questo è chiaro, la parola è adulterio, è chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive, e poi, ma, incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato, scatti la prima, è pietra. Ha mancato la legge, Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi.